Credo che sia molto vivo oggi il dibattito riguardo all'arte e alla cultura in Italia e credo che venga avvertito ormai sempre da più persone come l'arte e la cultura siano il nostro petrolio in un certo senso, siano la base da cui può ripartire effettivamente la rinascita di questo paese. Dobbiamo riappropriarci della grande bellezza, un termine tanto abusato oggi ma che per noi è la grande normalità, noi siamo circondati continuamente dalla grande bellezza e la musica, la musica lirica, la musica dell'opera è nel nostro DNA e appena risuonano le prime note tanto in arena come in tutti i teatri italiani nessun italiano può sentirsi estraneo a questa musica che è nel DNA di tutti quanti, ci appartiene e che dobbiamo far valere nel mondo come uno dei nostri più grandi tesori. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!